Tutto il giorno, domenica, sarà l'occasione per visitare Saione, passeggiare, fare shopping e veramente ci sono mille cose da fare e è una risposta importante perché ha visto veramente la sinergia di tantissimi soggetti che lavorano su questo quartiere, che lo vivono e che non farebbero mai a cambio con un altro. Saione Mob, un titolo, un brand, un grido di riscossa per un quartiere, quello di Saione ad Arezzo, che non ci sta più ad essere raccontato solo per gli episodi di microcriminalità e spaccio che pur nessuno nega. Dimostriamo quello che tutti diciamo, cioè che Saione ha delle criticità ma Saione ha un'opportunità. Oltre 30 le associazioni, molte che riuniscono giovani e giovanissimi, che si trovano in questo quartiere, il più popoloso e multietnico di Arezzo. Le energie e le risorse che sono presenti in quel quartiere a noi sono talmente note che non ci sorprendono. Domenica 22 maggio queste strade lasceranno spazio al Mercatino delle Pulci e ai laboratori culturali, ad una mostra fotografica curata dagli studenti dell'Istituto 4 Novembre e al Pasta Day. Un percorso enogastronomico che farà conoscere i piatti di pasta, i primi, della tradizione sia retina ma anche toscana. Dalle 11 poi partirà anche un intrattenimento musicale con Deb Jones dal vivo, quindi ConfCommercio e Mani in Pasta vi aspettano a Saione, domenica 22. Niente, meglio di un mercatino poteva rappresentare veramente quella festa, anche perché magari ce lo dimentichiamo, ma essendo nata proprio a Campo di Marte il Mercato delle Pulci, la maggior parte degli iscritti sono sempre stati residenti di quel quartiere. Quindi questa prima volta è anche bello vedere così tanti iscritti con tutte quelle strade che abbiamo già messo in mappa, quindi voleva essere proprio una vera festa di comunità. Una giornata organizzata da Oxfam Italia è fortemente voluta dall'amministrazione comunale, dalle associazioni di categoria e dall'associazione Alò Saione. Tutti, soprattutto i residenti, sperano che tutto non finisca in una domenica di festa. È un obiettivo nostro e da quanto sembra anche di tutti gli attori, comprese le istituzioni, fare sì che questa cosa non sia un semplice episodio, ma semplicemente una parte di un percorso strutturato, con una visione da costruire tutti insieme e che comprenda, faccia sì che dal nostro punto di vista aiuti, dia una mano anche a dare una risposta alla lotta alle disuguaglianze, alla povertà, alle disuguaglianze, che è un po' la nostra mission. Diciamo che la nostra associazione nasce principalmente per questo, per raccogliere i commercianti residenti, raccogliere le idee di tutti e cercare di dargli una struttura che possa permettere un lavoro continuativo. Quindi non siamo interessati più di tanto agli interventi spot, ma a quello che costituisce una rese del quartiere che possa portare sempre nuove proposte e nuove iniziative. Secondo lei è possibile nel futuro, cioè non un'iniziativa spot dove una domenica succede praticamente di tutto e dove sicuramente saranno scongiurati i comportamenti non consoni al quieto vivere, ma un qualcosa di più strutturato? No, non solo è possibile, ma è sicuro, però questo ve lo dirò tra qualche tempo, quando avrò finito un lavorino che sto facendo come fondazione Arezzo Comunità. Quindi è una promessa? Sì, anzi è un impegno.